ciao amici del vostro jumpy torno a parlare dopo un po di giorni perché dopo il fatto che è successo del capitano della fiorentina story mi sembrava mi sembrava al caso di rimanere in silenzio questo è il mio punto di vista quindi piuttosto che parlare fare tante voci robe del genere di fronte a una tragedia che non può trovare nessun senso nessuna e neanche parole secondo me se non se non solo provare dolore per questo ragazzo che se ne è andato e per rispetto della famiglia quindi ho preferito rimanere in silenzio e questo è stato il mio punto di vista niente si ritorna a parlare di calcio adesso è iniziata la champion ieri sera c'è stato un grande real che il real è casa sua la champion e soprattutto ronaldo è casa sua la champion e ieri sera l'ha dimostrato nonostante molte seconde linee giocavano il pari san germain non è riuscito a mettere più di tanto in difficoltà del madrid secondo me la qualificazione non è mai stata in discussione stasera toccherà la juve è una partita molto difficile questa della juve dovrà dovrà fare una gran partita ma secondo me la partita si può svolgere in due in due maniere io l'avevo detto che le squadre inglesi quest'anno daranno filo da torcere in champion anche perché offrono un bel calcio e niente quindi sicuramente stasera sarà una partita difficile non so se sarà una partita bellissima perché comunque il tottenham non farà la gara dell'andata nel a mio punto di vista dove comunque secondo il mio modesto punto di vista ha dato lezione di calcio alla juventus ma starà più attenta diciamo un po più tattica sarà questa partita la juve che invece dovrà partire subito all'arembaggio perché il pareggio non basta essendo finita due a due a torino il pareggio porterebbe sei quarti gli spurs il tottenham e quindi la juve che deve assolutamente trovare la via del gol quindi mi aspetto uno o che la juve inizia alla grande alla grandissima e quindi trova subito un gol tipo la partita che aveva fatto non mi ricordo più comunque la partita alla grande un po come è è stato all'andata è partita alla grande ho detto qui finisce in goleada poi il tottenham è tornato in partita quindi potrebbe ripetersi un po questo qui secondo me che la juve parte alla grande trova il gol poi capace che trova anche il secondo perché comunque loro si devono poi a un certo punto scoprire per forza se la juve segna e quindi la juve farà di tutto pur di segnare questo gol quindi la prima ipotesi che la juve trova il gol e magari trova anche il secondo loro poi un gol glielo faranno quindi potrebbe finire 2 a 1 per la juventus o 1 a 0 2 a 1 per la juventus ma questa è un'ipotesi ma l'altra ipotesi che dico io che si la juventus può trovare il gol ma il tottenham non è come la maggior parte delle squadre inglesi non è una squadra che comunque non ha mentalità italiana quindi nel senso che non è che loro sul 2 a 2 si accontentano no loro vogliono vincere questa partita quindi anche loro attaccheranno quindi se loro troveranno il primo gol la juve sarà obbligata a scoprirsi quindi capace che la juve prenda un'imbarcata stasera un'imbarcata non lo so potrebbe finire 3 a 0 3 a 1 per il tottenham e quindi prenderebbero un'imbarcata me la vedo più così io do queste due ipotesi quindi niente vediamo stasera cosa succede sicuramente sarà una partita perlomeno bella da vedere secondo me non spettacolare perché comunque un po di tattica all'inizio ci sarà e niente amici quindi sono ritornato a parlare mi sembrava mi sembrava doveroso stare in silenzio questo è stato il mio punto di vista e niente vedremo poi in campionato cosa succederà ciao a tutti da vostro jumpy ciao ciao